Io posso fare ogni cosa. Io posso riuscire. Esprimendo i miei talenti io divento libero. Una soluzione esiste sempre ed io mi apro a riceverla e realizzarla. La mia responsabilità è totale. Ogni giorno, in ogni aspetto, il mio perfezionamento progredisce sempre più. Mi rilasso e mi apro all'opera delle forze di Dio. Io sono origine. C'è qualcosa in me che sa che cosa devo fare. E non solo sa che cosa devo fare, ma mi spinge ad agire. Quindi tutto quello che devo fare, io lo farò. E tutto quello che devo sapere, io lo saprò. Qualsiasi sia non le sfide da fronteggiare, con certezza incrollabile, io accetto la guida divina, perché in essa vi è sempre la giusta soluzione per ogni cosa. Così sia e così è. Tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute, e voi le otterrete. Ma quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre perdoni a voi le vostre colpe. Se voi non perdonate, neppure il Padre che è di cedere a voi i vostri debiti. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico in verità che Dio renderà giustizia con frontezza. O Creatore di tutte le cose, aiutami, aiutami a rimanere umile, attraverso ostacoli e fallimenti, ma non nascondere ai miei occhi il premio che verrà con la vittoria. Fa che io sappia che tutte le cose passeranno, ma aiutami a riconoscere le mie benedizioni di oggi. Fa che io diventi tutto quello che tu hai progettato io fossi, quando il mio seme fu da te piantato e scelto per germogliare nel vigneto del mondo. Aiuta questo umile venditore. Guidami, o Dio!